L'attività del Politecnico in questo progetto si riferisce alla costruzione di una serie di modelli e di metodi che aumentano la possibilità di verificare i livelli di pericolosità che si associano alla presenza degli invasi e anche e soprattutto in che modo gli invasi possono attenuare questa pericolosità. La legge e i regolamenti prevedono la possibilità di effettuare delle manovre e i cittadini non conoscono tanto gli effetti che queste manovre possono avere che invece in recenti alluvioni si sono dimostrati veramente significativi. Quindi da parte nostra c'è lo sforzo come tecnici di provvedere a fornire gli elementi che consentono di effettuare queste manovre con dovuti livelli di sicurezza. Il fatto che abbiamo qui i nostri studenti è doppiamente importante perché dà loro la possibilità di entrare in uno strato di tipo tecnico che normalmente non vedono nell'ambito dei nostri corsi e di portarli su un livello che è quello del cittadino informato. C'è qualcuno che sta studiando una certa materia e che è in grado anche di trasferire questa informazione nella sua cerchia di conoscenze. Noi abbiamo questa possibilità attraverso gli studenti di costruire una specie di catena di informazione che è quantomai necessaria perché la presenza degli invasi pur essendo poco conosciuta se non alle comunità che si trovano immediatamente a valle delle dighe improvvisamente si rivela durante eventi importanti ed è stata in passato fonte anche di qualche polemica perché non è stato chiaramente descritto qual è stato l'effetto dell'invaso. C'è la sensazione e il timore che l'apertura delle paratoie possa peggiorare la situazione delle comunità di valle. In effetti teoricamente questo è vero ma praticamente con la definizione dei piani di protezione civile per le aree a valle degli invasi c'è adesso la possibilità di coinvolgere la popolazione nello spiegare che le manovre vengono fatte soltanto in termini di aumento della protezione e non di peggioramento e se c'è una situazione di scarico di portate che produce danni è essenzialmente ciò che avviene quando la diga è piena c'è uno scarico di troppo pieno e praticamente viene meno l'effetto di protezione che normalmente la diga ha. Le popolazioni di valle si adeguano ad un livello di sicurezza che fondamentalmente dipende dalla presenza della diga però ci sono delle situazioni nelle quali la piena in arrivo è di dimensioni tali per cui la diga non è più in grado di effettuare quella protezione che di solito svolge e questa cosa bisogna spiegarla correttamente alla popolazione cioè non deve essere dato un senso di sicurezza assoluta perché non ci può essere e tutto ciò con i piani di protezione civile ha la possibilità di essere svolto in concertazione fra gli enti e la popolazione.